J. Cole ha risposto al dissing di Kendrick Lamar e a questo giro non si è proprio regolato. Questo venerdì il rapper americano ha rilasciato a sorpresa un nuovo album intitolato My Delete Later, al cui interno troviamo Seven Minute Drill. Questo brano è una diss track contro K-Dot che aveva attaccato Cole in Like That, The Future e Metro Booming. Analizziamo insieme il testo. Ho ricevuto una chiamata, mi hanno detto che qualcuno mi sta dissando. Vuoi un po' di attenzione? Arriverà con i caricatori estesi. Il tuo primo album è stato un classico, l'ultimo è tragico. Il secondo ha fatto dormire il pubblico nonostante sia ritenuto un bel progetto, il terzo è stato assurdo ed è qui che hai raggiunto il tuo prime. Rilascia una bella strofa ogni 30 mesi o qualcosa del genere. Se non dissasse qualcuno, nessuno parlerebbe di lui. Signore, non farmi fumare questo M-word, perché in realtà lo apprezzo anche, ma se proprio devo farlo, lo umilierò. E qui gioca con il titolo del suo brano, Humble. Quattro album in dodici anni? Posso dividere. Citazione al dissing di Jay-Z Annas. Se questo è quello che vuoi, arriviamo alla violenza. Diciamo che Cole ha preso un po' sul personale, ma giusto un po'. Che ne pensi? Kendrick risponderà.